Questo non è un principe. Bene, andiamo in onda cari telespettatori e questa è una nuova puntata di Le Scelte del Consumatore. Di solito noi commentiamo i fatti locali con Sabato Pisapia e i fatti nazionali, aventi soprattutto poi delle valutazioni e delle implicazioni di natura economico-finanziaria con Ferruccio Falcone. Confermiamo anche oggi i colleghi qui in studio con me. Affronteremo nella scaletta dapprima l'attualità locale, sempre in materia consumeristica, e andiamo quindi con la lettura di quelle che sono le determine dirigenziali, cioè gli atti che sono stati fatti non dagli amministratori, quanto dai dirigenti, negli ultimi dieci giorni. Dunque, diamo un attimo queste letture. Allora, velocemente le determinazioni dirigenziali. Allora, per quanto riguarda la fornitura di due banner alla ditta 3.400 euro, poi sono state liquidate le indennità di preavviso alla signora Barbara Picella, vedova del dipendente Pasquale Cucco che è di recente scomparso. Ci sono poi altre liquidazioni di fatture di poco conto e poi altre liquidazioni. 1.000 euro per il quale contributo al gruppo teatrale Icavoti per la rappresentazione teatrale delle farse cavaiole durante la settimana rinascimentale, altre liquidazioni di fatture e poi è stato approvato l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio 2013. Inoltre, abbiamo avuto anche la liquidazione della fattura di 2.741 euro all'ordo della ritenuta IPEF in favore del geometra Angelo Giordano, quale liquidazione della sua fattura del 1 aprile 2014. Si tratta dell'acconto dei lavori di restauro e recupero funzionale del complesso di Villa Rende e su questo successivamente lanceremo anche una proposta all'amministrazione. Altre importanti determinazioni sono poi quelle della settimana precedente e dunque sono state liquidate all'impresa che ha effettuato i lavori di nuovo ammagliamento della rete di illuminazione pubblica delle traverse conseguenti alla disalimentazione e sconnessione dalla rete principale di Corso Umberto I, 160.500 euro. Poi saranno collocate a riposo le dipendenti Elvira Manzo e Mafalda Trapanese e sono state liquidate circa 500.000 euro in favore della Metellia Servizi per il periodo relativo al mese di marzo del 2014. Poi vi sono altri impegni di ridotte entità. Allora, partiamo prima con Pisapia, un breve commento e dopo da Falcone una valutazione su quelle che possono essere gli impatti relativi al pagamento da parte della pubblica amministrazione di queste fatture. Cioè, quanto incide sulla ricchezza locale la velocità di pagamento delle fatture? Pisapia. Io, a proposito dell'ultimo che hai detto, quanto è stata erogata alla Metellia Servizi? Circa 500.000 euro. Un mese? Un mese. Io non ho la possibilità nelle conoscenze per sapere se il prezzo è equo o meno, però vorrei sapere i costi benefici, cioè nel senso, quando noi paghiamo 500.000 euro al mese alla Metellia Servizi, ma è sicuro che la Metellia Servizi può darsi pure che lo fa? Io però, è un punto interrogativo, è giusto il prezzo che viene pagato in rapporto a quello che ci dà? È solo per la Metellia Servizi, non per il Consorzio di Bacino, che è una liquidazione separata. Io questo vorrei sapere, cioè entrare nel dettaglio, veramente nel dettaglio, perché a me la cifra non è poco, assolutamente. Anche i lavori di Villarente, di questo, dell'idea che vogliamo lanciare, magari ne parleremo dopo, ma insomma sono... Ma i lavori di Villarente, ogni cosa nella vita ci dovrebbe essere uno scopo, un traguardo, a che cosa mira questa ristrutturazione di Villarente? La riqualificazione della zona e la messa a disposizione della collettività di tutte quelle strutture che non sono di poco conto. D'accordo, Villarente, diciamo, è una... Villarente è un patrimonio di cava, è giustamente far tutelato, ma far tutelato anche in seguito, non solo spendendo soldi per ristrutturare. Dopo, dopo che fine fa? In manacchicità? Perché se si dà, ne possiamo parlare già adesso o dopo? Sì, noi parliamo, lanciamo il messaggio e poi ne approfondiremo. Io ho sentito che l'aderenza dei carabinieri non sta più, il posto dove è stato esterno non è più adeguato, non è adeguato. Sì. Perché non si dà l'aderenza, l'aderenza non si sposta a Villarente, in modo che Villarente come patrimonio di cava viene anche tutelato con la presenza dei carabinieri al loro interno? Allora, l'abbiamo concertata precedentemente e lanciamo questa proposta, anche perché l'alternativa sarebbe quella della costruzione della nuova tenenza in uno degli spazi che comunque sono nella zona di via Gramsci, quindi sostanzialmente... C'è già questa, oltre a tutte le banche tutelate, qui la rende un patrimonio di cava. Con un buon contratto di comodato. Falcone? Sicuramente sì. Il pensiero va al discorso Mediateca, al centro di cava, affittata per 1.250 euro al mese, una somma visibile in relazione a quelli che sono stati i costi che ha sopportato pro-cavi del cittadino cavese. Il discorso potrebbe anche essere quello di utilizzarlo per far sì che portiamo persone all'interno della nostra città. Oltre alla tenenza dei carabinieri si potrebbe pensare anche a un discorso da un museo storico su qualche tema specifico. L'importante è che questa amministrazione, o meglio l'amministrazione che verrà, non faccia la stessa cosa che... non assistiamo allo stesso intercorso spettacolo per cui abbiamo assistito per la Mediateca. Dunque, torneremo sul discorso per curiosità nostra di quanto incide dal punto di vista positivo la velocità nel pagamento da parte della pubblica amministrazione in favore delle imprese che operano sul territorio. È un po' come quello che a livello nazionale si sta dicendo ovviamente in ordine al pagamento della pubblica amministrazione, da parte della pubblica amministrazione dei suoi debiti, stiamo parlando tra un argomento e l'altro di circa 100 miliardi di euro, se non ricordo male sostanzialmente. Ma vediamo un attimo invece le delibere di giunta. Perché? Ecco, con le ultime sono stati emanati i provvedimenti in merito alla programmazione degli interventi economici e di sostegno alle manifestazioni turistiche e culturali di spettacolo, sport e promozione dell'immagine della città. Chi vuole può vedere sul sito del Comune il dettaglio della delibera, è la 147 del 30 aprile 2014, ricordiamo che stiamo parlando di delibere di giunta e in sintesi sono stati stanziati circa 300, è stata fatta la proposta da parte della giunta al Consiglio Comunale, di un pagamento di una messa a disposizione di circa 300 mila euro per il rilancio della promozione dell'immagine della città e anche il contributo alle varie manifestazioni. Poi nell'elenco vi sono una notevole serie di proposte transattive di sinistri, cioè praticamente di danni che i cittadini hanno subito dalla cattiva manutenzione delle strade, ricordiamo anche l'argomento di cui abbiamo parlato la settimana scorsa circa i San Pietrini, le modalità di posa in opera di manutenzione e anche le caratteristiche della polizia assicurativa. Poi troviamo una delibera interessante, cioè l'approvazione del protocollo d'intesa tra i comuni di Cava, Scala, Tramonti e da Gerola per l'attuazione dell'iniziativa distretto turistico Corsa di Amalfi. Questi quattro comuni sono dovuti correre ai rivari perché la precedente programmazione prevedeva degli incentivi soltanto per quei comuni che ricadevano nella zona ma che avessero l'accesso al mare e infatti Cava, Tramonti, Scala e a Gerola sono gli unici comuni del comprensorio che non hanno una discesa a mare, un contatto anche con il liquido salato per cui praticamente erano stati estremessi. Un altro tasto dolente. Il parere contrario di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della sovrintendenza dei beni di Salerno ed Avellino ha di nuovo bloccato la possibilità di completare il trincerone, stiamo parlando della rampa d'accesso che va dalla zona dell'ex mattatorio fino alla zona che noi definiamo tengana, cioè il collegamento iniziale con la strada statale. Evidentemente il progetto di compatibilità ambientale non è piaciuto la sovrintendenza, la sovrintendenza l'ha bocciato e quindi siamo stati costretti noi come cittadini di Cava a proporre ricorso al TAR. Io faccio una domanda. E si riparte. Io faccio una domanda, ma perché queste cose non si possono coordinare prima? Rispondi tu. No, io dico non si potrebbero coordinare prima, cioè... Allora, oltre che essere un bellissimo consulente, sei anche un avvocato. Rispondi tu. Dovrebbero esserci sicuramente dei contatti informali per i quali andare a gestire, praticamente, a pianificare opere di questa importanza. Non è il piccolo progetto la finestra o quantomeno il balcone in questo caso, ma siccome si tratta di interesse pubblico e il committente è anche proprietario dell'opera, è l'ente pubblico, quindi il comune, sarebbe auspicabile, quantomeno, dei contatti informali per concordare al di fuori di quelli che sono anche canali istituzionali, la redazione, quindi, praticamente, alcune tipologie di opera, o meglio, le modalità di effettuazione. L'incorso al TAR prevede un ulteriore sborso di costi a carico della collettività, un ulteriore ritardo e un deproporamento, poi, dell'opera che, in quanto non utilizzata, è soggetto a un decadimento proprio fisico nel corso degli anni che probabilmente ci separano da ora alla messa in opera, insomma. Ah, ecco, ritorniamo un attimo al discorso che volevamo fare prima. Facciamo così veramente un gioco. Nel momento in cui si riesce a mettere in circolazione un milione di euro per completare la rampa di accesso e, diciamo, di questi un milione, 250 mila euro, vado così molto a dare i numeri, sono utilizzati per le maestranze locali. Che vantaggio ha la collettività? Alla fine e dopo quanto tempo può avere un vantaggio? Sicuramente i vantaggi sono diretti ed immediati, in quanto se l'impresa paga le retribuzioni, il reddito disponibile delle persone addette a delle maestranze è destinato ad essere anche in parte speso, in parte destinato all'esparmio e così via. Si avvia il cosiddetto circolo virtuoso per la mobilitazione, praticamente, che viene in seguito alla mobilitazione, quindi di risorse. Il problema però qual è? È che maestranze locali non ce ne è dato vedere nei cantieri, anche di una certa importanza. Poi è chiaro, bisognerebbe andare a verificare nello specifico, ma non mi sembra che la mano d'opera locale sia stata utilizzata in maniera massiccia. Probabilmente qualcuno sarà stato anche utilizzato, ma non in maniera massiccia. Però il problema è sempre lo stesso. È un problema di classe politica, è un problema di pensare per la città e pensare quello che è il progetto della città. Noi ci troviamo, la sensazione è che un po' abbiamo tutti, e che ci troviamo di fronte ad interventi spot che mirano a mettere la toppa qua o là, del tipo, non so, recuperiamo Villa Rende, qual è l'obiettivo? Non lo sappiamo, poi dopo vediamo. Non so, ci troviamo di fronte da un tringerone che viene bloccato dal punto di vista paesaggistico, quindi da un altro ente pubblico e da una serie di interventi che danno la sensazione che non ci sia un progetto unico per la città, che poi viene portato a compimento dalle varie amministrazioni che si susseguono nel corso degli anni. Forse il problema è proprio questo della nostra classe politica. Bene, mi hai dato la possibilità di passare, senza saltare come fa la quaglia, sempre a valutare attraverso un prospetto quella che è l'attività proprio della nostra classe politica, politica non amministrativa, perché con la determina 804 sono state liquidate le competenze per le partecipazioni dei consiglieri comunali alle commissioni per il primo trimestre del 2014. Ricordiamo che il gettone di presenza lordo, quindi praticamente da questo poi occorre detrarre quelle che sono le tasse, per cui dobbiamo fare circa un 25% in meno. Comunque il lordo del gettone di presenza sono 34,96 euro. Allora, diamo un attimo i numeri delle partecipazioni. Allora, i consiglieri, omettiamo ovviamente i titoli accademici perché sennò ci allungano la dicitura. Allora, Alfieri è stato presente ad una commissione, Angrisani 2, Baldi Germano 8, Bellizia 1, Bove 9, De Filippis 6, De Rosa 0, Della Monica 6, Di Matteo 11, Esposito 6, Fasano 1, Gravagnolo 12, Landolfi 2, Mandara 5, Mazzeo 10, Monetta 1, Palumbo 8, Papa 2, Polacco 2, Polichetti 9, Salsano 4, Santoriello 1, Scarlino 4, Senatore Giovanni 12, Nunzio 7, Pasquale 7, Raffaele 3, Servalli 5, Senatore Sabato 6, Vittore 3. In soldoni, diciamo, per fare cifra pari, faccio riferimento al consigliere Mazzeo, giusto perché ha 10 presenze, al Mazzeo vengono riconosciute 349,60 centesimi di euro lordi da cui dovranno essere detratti in media circa il 20% quale trattenuta alla fonte Pisapia. Secondo me non è solo una questione economica, scusa, hai dato queste presenze, forse non ho capito bene io, ma su quante? 12. Su 12, solo due consiglieri sono stati presenti, su tutte 12, al di là del rimborso economico, indica l'impegno civico dove sta, chi non ci è mai stato, chi c'è stato una volta, chi due volte, secondo me viene a mancare proprio l'impegno civico per cui si sono presentati. Si va da Senatore 12 e Gravagnuolo 12, al quale massimo, a un minimo di De Rosa 0. Cioè voglio dire, al di là del rimborso, l'impegno civico non esiste in questi casi, per cui uno si presenta per essere eletto. Dunque, passiamo ad argomenti invece di natura un po' più generale. Fermo restando che dopo torneremo su qualche cosa di natura locale, al di là della proposta di Villa Rende, anche a livello di posizioni di degrado. Dunque, energia, 18 mesi senza una bolletta e un utente è stato risarcito. Dunque, la sentenza del giudice di pace di Pescara, che ha condannato Eni al pagamento di un indennizzo pari a Euro 480, oltre le spese legali, in favore di un cittadino che, dopo il passaggio ad Eni, si era visto recapitare solo dopo 18 mesi, un anno e sei mesi, la prima bolletta e la prima bolletta era di 445 Euro, non aderente ai reali consumi e dalla tariffa promessa. Attenzione, il consumatore si è rivolto a un'associazione di tutela dei consumatori che ha deciso questo. Dunque, l'Eni aveva ammesso di avere un problema con la fatturazione legato al rapporto con il suo distributore, ma tuttavia non ha ritenuto inizialmente di dover pagare quelle che sono le sanzioni previste dalla normativa vigente, cioè la sanzione automatica costituita dal fatto stesso di non aver fatturato i consumi, perché dichiarava di essere esente in ragione di una successiva delibera che ammetteva un periodo di sospensione dell'indennizzo per errata periodicità di fatturazione. Ma, verificate tutte le condizioni dell'istanza, il giudice ha dato ragione al cittadino, in quanto non solo la delibera non aveva più valore quando si sono verificati i fatti, ma il comportamento dell'Enel, attenzione, questo è importante, il comportamento dell'Enel non era stato corretto nei confronti dell'utente e aveva violato quei principi generali di lealtà, correttezza e buona fede che sono alla base di qualsiasi rapporto contrattuale. 30 secondi per Falcone e 25 per Pisapia. Si commenta da solo la sentenza, il problema è l'eseguità della sanzione applicata nei confronti di un quasi monopolista o meglio un oligopolista. Il problema qual è? E' che questi comportamenti dovrebbero essere sanzionati in maniera più pesante in modo e soprattutto identificare quello che è il vero responsabile di queste problematiche, in quanto le responsabilità nel momento in cui vengono identificate specificamente, automaticamente nel momento successivo in cui ci si trova di fronte alle similatiche situazioni, qualcuno inizia a pensare, cavolo, può capitare anche a me, quindi impiega di mettere un attimo di attenzione e soprattutto di considerazione nei confronti dell'utente. Pisapia, tu ci sei andato a finire con le dita? Sì, sì, sì. Purtroppo questi poteri, diciamo, forti, come si usa dire, è come un muro di gomma, tu ci sbatti vicino e torni indietro. Questo è il problema grosso. Il problema grosso è che a cui dovrebbero mettere in mano, diciamo, la politica, perché non è possibile che un cittadino debba combattere da solo con l'Enel o con l'Enel. Una domanda, giustamente l'esiguità della sanzione. Esattamente. È risibile per loro. Perfetto. Allora, veramente, approfondiamo velocemente questo. Quanto può, diciamo, solleticare, cioè che impatto negativo può avere una sanzione di 400 euro nei confronti di un colosso dell'energia? Assolutamente nulla, assolutamente nulla. Perciò è, cioè... Per finire nei costi generali, insomma. Come diciamo noi, valciare spese campesi, insomma, vuol dire, ci sono avuti più soldi per istituire la causa, per fare questo, che è la sanzione che è stata data all'Enel, insomma. Dunque, parliamo di un argomento che è notevolmente serio e quindi ci sarebbe veramente da piangere sull'argomento. Fondo prevenzione usura. Leggo questo e poi tu che sei esperto lo commenti con me. Da 17 anni, con un riconoscimento fatto dal Ministero dell'Economia, una delle associazioni, Adconsum, gestisce il fondo anti-usura per le famiglie di tutta Italia. È l'unico modulo e modo corretto per accedere al fondo. E il modulo è quello che si può scaricare solo dal sito dell'associazione, che invita a diffidare di chi consegna moduli dietro richiesta di versamento di denaro. Non so fino a che punto si debba proseguire in questo modo. Nei 17 anni di attività, il fondo di prevenzione usura ha ricevuto 3.100 richieste di aiuto dalle famiglie, qui stiamo parlando di famiglie non in difficoltà, ma famiglie che per lo più, per motivi sanitari, per motivi sopravvenuti, hanno dovuto richiedere un finanziamento prima alle banche, successivamente hanno avuto altre esigenze, hanno chiesto di nuovo alle banche, non hanno avuto, si sono rivolti a soggetti che però li hanno usurati. 3.100 richieste, ne avviate 1.169 appunto alle banche, attenzione, ha fatto da garante per un totale di prestiti pari a 18 milioni di euro, di cui 15 milioni e 200 mila erogati. Attenzione, dunque, dice Adconsum, diffidate di qualunque soggetto che venga presso di voi o con il quale, diciamo, voi abbiate contatto. L'unico legittimato è Adconsum e, insieme con questa associazione, le altre di tutela dei consumatori, e l'unico modo è lo sportello fisico e l'utilizzo del modello che si può apprendere dal sito internet. C'è poco spazio per commenti di fronte a situazioni del genere, ovviamente chi è in difficoltà lo invitiamo caldamente a rivolgersi esclusivamente alle associazioni di tutela dei consumatori che sapranno veicolarlo, quindi utilizzarlo praticamente presso il fondo con delle modalità che la legge stessa ha previsto e ha istituito. Il problema qual è? Un problema sociale. Il pensiero va non tanto a coloro che hanno richiesto l'intervento del fondo, ma a coloro i quali non sono in condizioni di chiederlo, e purtroppo sono tanti. Dopo parleremo anche, giusto così, per fare una sbiancatura dell'argomento sulla pubblicità Dixon Nuova Formula. Ma, bisogna sapere, prima di addentrarci, un commento? Su che cosa? Sull'anti-usura. Che tu sappia, ci sono nella nostra città... Si sa e non si sa, nel senso che... D'altra parte sei garantito dall'anonimato. Guarda la telecamera... No, ma non è questione di l'anonimato, è questione che chi ci sta, chi purtroppo ci è andato sotto, difficilmente lo dice o lo pubblicizza, questo è il problema. Non è che io sono coperto dall'anonimato, assolutamente, non me ne importa, però è che chi ci sta sotto che difficilmente lo pubblicizza, questo non è una cosa che si sa facilmente. Falcone, commentiamo quest'altro lancio di agenzia. Ripartono, a beneficio della casalinga dell'annunziata, specifica anche di che cosa si tratta, ripartono le erogazioni mutui di surroga. Insomma, siamo stati buoni profeti nel corso della precedente trasmissione, l'abbiamo detto, e i fatti ce lo confermano. Siamo partiti dall'osservatore della nostra città e adesso anche a livello nazionale è così. Dunque, ripartono le erogazioni dei mutui di surroga. Che cosa significa? Nel primo trimestre 2014 cresce l'interesse per la surroga dei mutui. Il 17% dei mutui erogati in questo periodo alla finalità di surroga. Nel 2013 era meno della metà, l'8%. Questa è una delle più significative evidenze che emergono dalla nuova edizione di Bussola Mutui, il bollettino trimestrale firmato CRIF e Mutui Supermarket, che offre una panoramica aggiornata e completa delle tendenze in atto nel mercato italiano dei mutui residenziali ed immobiliari. E quindi invitiamo tutti voi telespettatori che ci seguite a dare un'occhiata. Chi opta per la surroga oppure per la sostituzione del proprio mutuo sceglie il tasso variabile e il tasso variabile con K, che insieme addirittura fanno circa l'85% del totale delle domande. Prego. Sicuramente questa è la conferma di quando andiamo dicendo da qualche trasmissione. La surroga, ricordiamo a beneficio della signora Maria dell'Annunziata, è un'operazione in base alla quale una banca si sostituisce all'altra nel mutuo, non prevede alcun costo a carico del cliente e solitamente si surroga solo ed esclusivamente solitamente, si surroga sempre solo ed esclusivamente per motivi di carattere economico. Ecco, vogliamo capire che significa la surroga e la sostituzione. La differenza è la sostituzione in breve perché siamo in conclusione. Il nuovo mutuo che sostituisce un altro, quindi il cliente sostiene ex novo le spese per la cancellazione dell'ipoteca vecchia o meglio, per la iscrizione della nuova ipoteca, nuova perizia, nuova pratica di mutuo. Mentre la surroga non è altro che un'annotazione a margine della formalità iscritta a suo tempo, quindi del mutuo fatto a suo tempo col quale una banca si sostituisce all'altra nel piano di ammortamento e quindi nella titolarità del credito nei confronti dell'espermiatore. La surroga, la differenza sostanziale è l'esborso dal punto di vista economico. La sostituzione prevede tante spese a carico del cliente e la surroga non prevede alcuna spesa. Bisogna via, prima di concludere poiché ognuno di noi pensa anche alla propria anima allora tu hai da lanciare un appello in favore di un ente religioso. Sì. 20 secondi perché dopo non solo un ente religioso secondo me quella scalinata che porta al convento dei cappuccini secondo me è un patrimonio di cava. È una delle più belle passeggiate esattamente è chiusa da anni da anni è transennata e non so e penso che così resterà. Allora io dico ben venga la piazza però la piazza già stava bene per così. Diciamo quella è la piazza sono soldi europei è bene ma sono soldi europei a fronte di un progetto che è stato fatto per quella piazza. Se dove l'Europa gli manda un progetto per aggiustare la scala magari arriveranno i soldi per aggiustare la scala perché non si è fatto questo per la meccanomania di qualcuno insomma io questo lo devo dire scusatemi se l'ho detto però lo devo dire lo devi dire anche quella scala è una delle più belle passeggiate di casa è una scala monumentale è del 500 del 600 non so di quanto è di preciso però è una cosa bellissima si è chiusa transennata da anni perché? Bene prima di concludere quanto costa crescere un figlio secondo le stime di Feder Consumatori e ovviamente sono delle stime un po' sottoposte rispetto probabilmente alla verità anche perché poi si presuppone un reddito disponibile netto di 34 mila euro è beato chi ce l'ha crescere un figlio fino alla maggiorità attenzione quindi fino a 18 anni diciamo fino al diploma e non fino all'università attenzione costa mediamente 171 mila euro ma nei 18 anni un capitale nei 18 anni un figlio è un capitale oltre una delle fasi più impegnative dal punto di vista economico sicuramente il primo anno di vita del bambino che costa in media 8.500 euro allora Falcone prima che le telecamere si spengano un tuo rapido diciamo commento come economista e poi dopo salutiamo i nostri telespettatori e avremo successivamente la possibilità di dare altre notizie informazioni sia a livello locale che nazionale nella prossima trasmissione ci piacerebbe tenere conto di sapere come sono state calcolate se tengono conto di queste cifre di costi per babysitter e quant'altro quindi bisognerebbe avere un attimo la specificità del conteggio però il pensiero poi va al momento dico che sul sito di Feder Consumatore c'è proprio il dettaglio anzi addirittura quanto costava un passeggino nel 2013 e quanto costa nel 2014 in media da 167 a 428 euro sicuramente poi la spesa più grossa è il momento dell'università per chi può mandare ancora i figli all'università ricordiamo che parliamo di famiglie con reddito disponibile di 34 mila euro e sicuramente queste non sono la maggioranza degli italiani anzi in questo momento sono una parte credo minoritaria poi della popolazione bene con questo concludiamo naturalmente come vedete cari telespettatori c'è tanto ancora da dire seguiteci e ricordiamo che nel momento in cui abbiate necessità dubbi e ci siano anche possibilità di un contatto potete appunto rivolgervi alla struttura dell'Unione Nazionale Consumatori tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 arrivederci grazie questo non è un principe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti